È facile parlare dei grandi eventi della storia, dei grandi personaggi storici come Alessandro Magno, Carlo Magno, Pompeo Magno, un altro Magno, Alberto Magno, insomma un sacco di personaggi famosi le cui storie sono straconosciute, è pieno di canali qui su YouTube dove tutti ne parlano, tutti parlano della battaglia di Waterloo di Napoleone, tutti parlano della battaglia di Lepanto, io no, io voglio portarvi contenuti originali, cerco di farlo, e quindi oggi voglio raccontarvi di una battaglia tutta italiana nel pieno Medioevo per cercare di scardinare quelli che sono i miti ma soprattutto gli elementi ricorrenti nell'immaginario comune legato al Medioevo e sempre ci rifacciamo soprattutto nella contemporaneità grazie ai film, alle serie tv, pensiamo sempre ai vichinghi, ai norreni, alla mitologia nordica. Vogliamo parlare un po' di Medioevo italiano? Ci penso io, già tra poco uscirà il mio romanzo La stirpe delle ossa che è in pieno Medioevo tutto italiano e pieno di avventure italiane. La battaglia di Cascina. Oggi vi parlo di uno scontro che spero non abbiate mai sentito prima d'ora e lo credo bene, perché è abbastanza marginale rispetto alle battaglie, le grandi battaglie della storia, quelle su cui si scrivono i libri, si scrivono i saggi. Voglio parlarvi di una battaglia importante in quel decennio del 300 medievale italiano che però insomma non è che ci si sofferma più di tanto nei libri di storia a parlare di questa battaglia combattuta fra due città molto potenti italiane che erano Firenze e Pisa. Firenze sappiamo tutti per chi era potente, per il denaro, per la liquidità, per le banche, per le assicurazioni, le cambiali, gli assegni. Era molto moderna, sembra quasi di parlare di cose, infatti no, stiamo parlando di cose in uso ancora oggi, no? Le cambiali, le assicurazioni sui carichi se la nave affondava e le truffe, c'era chi truffava così faceva affondare una nave per riscuotere l'assicurazione, no? Firenze, ecco, questa è la Firenze del 300, uguale Pisa, se non che ci metteva del suo grazie alla potenza della sua flotta, dei suoi commerci, delle sue rotte commerciali che si spingevano oltre i confini del mondo conosciuto, oltre la Terra Santa dove era presente in gran numero, ad esempio nella città di San Giovanni d'Acri, ora sto andando un po' indietro nel tempo, visto che nel 300 San Giovanni d'Acri era già sepolta e disintegrata dai mamelucchi nell'ultimo assedio che pose fine al regno crociato, ma insomma in quella città aveva un intero quartiere pisano, solo di gente di Pisa, un quartiere arroccato con i suoi edifici fortificati, perché era una situazione comunque bellica di guerra, si facevano commerci, si faceva la guerra. In tutto questo scenario, proprio sintetizzato al massimo, le due città si facevano la guerra tra loro, una guerra continua, fatta di cavalcate, o cavallate come dicono a volte nelle fonti, ovvero guerre, diciamo, di un giorno, guerre lampo, perché come funzionava la guerra nel Medioevo italiano, no? Nessuno ce lo racconta mai, io voglio raccontarvelo, lo vedrete anche nel romanzo proprio mostrato con le scene avventurose, con una storia narrativa vera dei personaggi che hanno i loro problemi, io adesso ve la racconto in maniera un po' generica, il modo più semplice per fare la guerra era di chiamare a raccolta i cavalieri, perché sono veloci, perché hanno dei cavalli da guerra, ci si sposta velocemente, non tutti i cavalieri della città, ben inteso, se ne raccoglie di solito un terzo, perché la città era divisa in terzieri, a volte anche più parti, ma insomma, un terzo dei cavalieri disponibili in città, che erano tutti registrati tramite gli elenchi, chi si sapeva tutto e chi non partecipava alla chiamata, alla raccolta per andare in guerra, si vedeva dai registri, perché Dante Alighieri possiede un cavallo da guerra, quindi il suo terziere è stato sorteggiato per andare in guerra, bisogna che Dante Alighieri si presenti alla raccolta in tal giorno, quando gli astri lo consentano, perché si interpretava anche gli astri, c'erano gli astrologi, una, diciamo, una materia scientifica, veniva considerata scienza, e si partiva nel giorno in cui gli astri erano più favorevoli, se Dante Alighieri non si presentava, sto ipotizzando, quel giorno, gli arrivava a casa la multa, non c'è niente di più moderno di tutto questo. Ecco, quindi, come parte, qual è l'inizio di questa battaglia di cui vi racconto oggi? Una cavalcata, fatta dai pisani, che si spinsero così avanti, così a fondo di quella giornata epica, perché vinsero, vinsero questa scaramuccia, si spinsero oltre, bruciarono le fattorie, razziarono i montoni e tutto quello che c'era da fare durante le normali cavalcate, finché non raggiunsero le mura della città di Firenze. Erano arrivati così a fondo che si trovarono proprio lì davanti alle mura. Cosa fecero? Si spinsero ancora oltre, rubarono degli asini, poveri animali, e li impiccarono tutti davanti alle mura della città di Firenze per prendere in giro i loro nemici. Questa, secondo alcuni cronisti, è una delle ragioni che portarono allo scatenarsi di una battaglia vera e propria, perché quelle fino ad allora erano delle cavalcate, appunto, si partiva dalla città, ci si recava in territorio nemico a razziare, a bruciare ville, a bruciare fattorie, rubare, uccidere anche, e poi si tornava a casa. Quindi non c'erano delle battaglie campali, come vediamo nei film, fino a oggi, di cui vi racconto io. 28 luglio 1364. I fiorentini raccolgono un grande esercito, nella sua completezza tutta la città viene chiamata la raccolta, perché si tratta di una giornata importante. Abbiamo un nuovo capitano di guerra, che è Galeotto Malatesta. È stato nominato da poco e quindi, come oggi, proprio come nella modernità, quando arriva quello nuovo vuol far vedere che è più bravo. Questo vale anche nel mondo del lavoro, quando arriva il nuovo responsabile marketing cambia le carte in tavola, cambia i fornitori, cambia tutte le cose, no? Ecco, Galeotto Malatesta arriva e cosa fa? La prima cosa che fa è cercare di ingraziarsi i mercenari, perché nella situazione di guerra italiana c'erano sempre presenti i mercenari. Gli italiani spendevano tanto, l'Italia era un paese ricchissimo, forse il più ricco di tutto il territorio europeo e è per questo che c'erano tanti mercenari in Italia. Questo era un bene, questo era un male, perché come si assoldava i mercenari, anche il nemico assoldava dei mercenari, i mercenari erano un po' dappertutto, i mercenari saccheggiavano e a volte anche di proprio conto. Quando magari gli girava un po', avevano bisogno di... non gli era stata pagata la condotta e allora volevano saccheggiare, lo facevano. L'Italia era piena di violenza, piena di sanguina, di spadate in faccia e guerre e avventure. Questa è un'altra delle ragioni per cui dovremmo preferire delle avventure, delle storie narrate in Italia, perché è pieno di opportunità per narrare delle grandi storie. Io nel mio piccolo cerco di farlo, no? È inutile andare sempre in Scandinavia, sempre nei vichinghi e dai, dopo un po' uno si rompe anche, no? Quindi Italia, pieno di mercenari, pieno di soldi, i comuni pagavano, acquistavano i favori dei mercenari, dei soldati di ventura, degli stipendiati, non solo per andare a fare la guerra, ma per mandarli via anche, perché in alcuni casi quando si presentava una compagnia mercenaria abbastanza numerosa e pericolosa e stava lì e bazzicava intorno alla città non la poneva da assedio, chiaramente, no? Gli assedi sono abbastanza rari, ecco questa è una caratteristica della guerra medievale. L'assedio per potersi mettere a scalare le mura, con le scale, puoi mettere le macchine all'assedio, insomma, bisogna mettere in piedi una gestione, un'organizzazione che si preferisce lasciare per ultima. L'ultima faccenda da fare è l'assedio. Prima vengono le cavalcate, vengono le battaglie, no? Si cerca di vincere in altri modi e i mercenari di certo non si mettono da soli a fare assedi. Quindi cosa facevano? A volte stanziavano nei territori, il semplice passaggio di una compagnia di mercenari crea danni. Immaginate che basta che un mercenario entri in una villa dove ci sono donne e bambini e rubi qualche cosa, ammazzi qualcuno, ecco già si crea del danno. Perciò i comuni a volte, anzi ci sono delle fonti storiche, se guardate l'articolo qua sotto in descrizione riporto delle note dove ci sono questi aspetti che vengono descritti dai cronisti antichi, a volte per liberarsi dei mercenari le città li pagavano semplicemente per dire andate via per tre o quattro anni non tornate più e tanto li pagavano e vedremo un esempio anche in questo caso, in questa battaglia, nella battaglia medievale di Cascina, 1364. Quindi vi dicevo, dalle otto malatesta diventa capitano di guerra, viene insignito di tale onore in un giorno prestabilito dagli astri perché bisogna sempre muoversi con il favore delle stelle e a quel punto quando crede che sia il momento giusto per sferrare l'attacco a Pisa e togliersela di torno decide di promettere ai mercenari di cui si faceva forza Firenze di promettere il doppio soldo e il mese compiuto o completo. Cioè significa che quando vi era un grande evento, una grande battaglia vinta con successo nel caso in cui vi fosse stata una vittoria di successo, ecco in quel caso i mercenari avrebbero goduto di doppia paga, quindi il doppio dei soldi e la mesata completa che diciamo se la battaglia si svolgeva il 20 di luglio ecco gli venivano pagati anche i dieci giorni che in realtà non avevano combattuto in quei giorni ma gli veniva pagato il mese completo ecco in questo senso. Modernissimo, questi aspetti sono bellissimi questi dettagli, perciò una promessa importante e già il cronista che è Giovanni Villani mette le mani avanti dicendo attenzione perché questa promessa poi li si ritorcerà contro, cosa che accadrà e lo vedremo alla conclusione della battaglia. Gallotto Malatesta organizza un esercito, chiama raccolta tutta la città di Firenze ma non solo, i mercenari prende dei balestrieri genovesi che era il meglio del meglio per quanto riguarda le armi da tiro in Italia, erano formidabili con quelle balestre, riuscivano a tirar su un sacco di mercenari, un sacco di soldati perché la balestra è un arnese che si impara in relativamente poco tempo rispetto all'arco ad esempio ecco per diventare dei buoni arcieri gli inglesi ci impiegano una vita intera perché anche bisogna fare dell'esercizio fisico e infatti ci sono molti importanti decreti medievali come quello di Edoardo III che si riferisce proprio al fatto di tirar su dei nuove compagnie di arcieri nel tempo negli anni con i tornei, ci vuole tanto tempo per tirar su dei buoni arcieri, i balestrieri no perché è molto più industriale la faccenda, è molto più moderno il balestriere dell'arcieri, è quasi come un soldato, un fante, un militare contemporaneo perché il fucile no ecco non ha bisogno di forza e altre tecniche molto difficili. Quindi il balestrieri genovesi poi si va a prendere un po' di aretini da Arezzo, gli alleati, si cerca in qualità qualche tedesco, dei mercenari e riesce a tirar su un esercito abbastanza numeroso ovvero 11.000 afanti e 4.000 cavalieri. In questo caso vedete abbiamo un rapporto di 3 a 1 ed è abbastanza in linea con la guerra medievale italiana quindi tre fanti un cavaliere ma sono numeri insomma le cose cambiano ci sono vari percentuali. Non ci interessa adesso. Galeotto malatesta il capitano di guerra con le insegne della città muove con l'esercito di notte partono da Firenze perché così di notte raggiungono velocemente perché da Firenze a Pisa è uno sputo come si suol dire raggiungono subito il luogo che volevano inizialmente raggiungere per accamparsi creano un grande accampamento difeso con il fossato probabilmente non ce lo racconta ma io immagino che ci fosse un fossato visto che il fossato è la base della difesa. Già i romani gli antichi romani lo sapevano no? La prima cosa da fare quando ci si vuole difendere quando si vuole difendere una posizione è scavare un fossato la cosa più semplice la cosa più efficace quindi si scava il fossato ci si difende ci si piazza lì si passa la notte e ci si prepara per sferrare un attacco vero e proprio. Ora in questo frangente però vi ricordate siamo il 28 di luglio e a questo punto l'esercito è accaldato perché nella notte lavorano tirano sull'accampamento si riposano tirano sulle tende tutto quello che è necessario poi ci sono i lunghi carri delle salmerie dietro che portano la farina i fornai che seguono i carri per creare il pane ogni giorno oppure dei sacchi con dentro il pane insomma bisogna vedere nello specifico il vino tutto il resto c'era bisogno di sopravvivere no? Di mangiare di bere come sempre quindi una si creò come un piccolo insediamento neanche tanto piccolo perché 15.000 uomini in totale accampati appunto nei pressi di Cascina si scrive Cascina non è da pronunciarsi Cascina come la parola italiana che intende quel luogo bucolico no? E si accampano 28 luglio fa un gran caldo gran parte dell'esercito fiorentino aretino alcuni mercenari visto che siamo nei pressi dell'Arno l'Arno che è il fiume che bagna Firenze ma anche Pisa sì ora non vorrei dire una castroneria lasciate perdere fate finta che non ho detto niente ecco lungo l'Arno cosa c'è di meglio da fare che è un bel bagno rinfrescante no? E quindi in piena guerra metà esercito o più si va a rinfrescare si levano le armature lasciano le armi e vanno a fare il bagno questa scena così famosa doveva essere anche immortalata dallo stesso Michelangelo uno degli esponenti del rinascimento italiano perché di questa battaglia è famosa proprio questo aneddoto dell'esercito fiorentino che va a rinfrescarsi e sono tutti mezzi nudi no? Che stanno a bagno e qui c'è l'aggancio perché sta per succedere qualcosa prima che vi racconto cosa fanno i pisani perché sono lì in agguato non è che non è che si vedono arrivare i fiorentini all'improvviso vedono tutto nel frattempo però vi dico cosa fa il capitano di guerra che è Galeotto Malatesta è un condottiero famoso ben voluto tutti si fidano di lui perché comunque è un uomo di successo però è vecchio è vecchio ed è malato di una febbre malarica si pensa che la chiamano terzana se non sbaglio perché si presenta questa febbre circa ogni tre giorni ed è abbastanza pesante debilitante insomma Galeotto in quel momento sta male quindi anche per questo forse si sono accampati lui si ritira nella sua tenda a riposare non riesce a far granché in quel giorno quindi c'è un po di di caos nel campo la gente fa un po quel che vuole dunque mentre parte dell'esercito è al fiume che si diverte sguazza si rinfresca il capitano di guerra sta nella tenda malato vecchio a quel punto però si fa avanti un giovane cavaliere che è Manno Donati della famiglia Donati di Firenze molto importante se conoscete le storie di Dante Alighieri figurano parecchio prende in mano la situazione perché dice non mi piace quello che sta per succedere non mi piace quello che sta succedendo anzi visto che tutti sono a bagno il capitano di guerra sta lì nella tenda mezzo malato vecchio che se arrivano adesso i pisani è un casino abbiamo perso quindi Manno Donati prende in mano la situazione rinforza le difese dell'accampamento non ci dicono come nella cronaca mi piacerebbe saperlo ma immagino che tirino su una sorta di barriera di barricate con carri o qualcosa è comunque dietro al fosso barriere dicono questo termine usano il termine barriere quindi il campo è recintato e piazza dei contingenti di soldati pronti che non sono andati a fare il bagno sulla strada principale la strada che porta verso il porto di Pisa l'obiettivo che era dei fiorentini il porto della città marinara importantissima ci piazza dei fiorentini i fiorentini migliori i fanti che stanno lì davanti a guardia dell'ingresso dell'accampamento lungo la strada ovvero l'accesso da qui prevalentemente avrebbero attaccato i pisani di sicuro attaccavano lì perché venivano da lì quindi pensa questo no poi ci piazza anche dei balestrieri genovesi quelli sono pagati no quindi non andate a fare il bagno magari i cittadini no è difficile tenerli a bada non sono guerrieri di mestiere quindi non sono arruolati non hanno combattuto tantissime guerre qualcuna sì di certo però voi balestrieri siete pagati quindi fate la guardia a campo quindi un po di fiorentini un po di eretini balestrieri genovesi si mettono lì a guardia del campo nel frattempo dall'altra parte c'è l'esercito dei pisani esercito dei pisani che come vi dicevo all'inizio del video nella guerra italiana fanno la loro sporca figura i mercenari e in alcuni casi anche soprattutto i mercenari perché l'esercito pisano in questo frangente era guidato da un mercenario famosissimo uno dei più famosi della seconda metà del 300 italiano che è giovanni acuto giovanni acuto voi direte ah beh condottiere italiano no non era italiano perché giovanni acuto in realtà era un inglese si chiamava john hackwood e proveniva dall'inghilterra aveva attraversato la manica con la sua compagnia di inglesi inglesi che facevano paura perché erano stati temprati dalle lunghe battaglie con la francia tuttora in corso perché è quella che noi chiamiamo la guerra dei cent'anni che racchiude al suo interno e si conclude poi con le vicende di giovanni d'arco no tutta questa storia ecco questa è la storia dei grandi eventi di cui parlano ovunque su qui su youtube negli articoli su web se vi interessa ne parlano tutti ecco gli inglesi che venivano da questo ambito di grandi guerre che si portavano avanti appunto guerra dei cento anni no che erano venuti in italia a far soldi meglio si faceva molti più soldi in italia rispetto all'inghilterra o la francia perché le città i comuni le signorie pagavano pagavano anche per toglierseli di torno e erano dei soldati che sapevano far la guerra sapevano farla bene addirittura infatti giovanni acuto john hackwood comandava l'esercito dei pisani e lui la vecchia volpe come la chiamano l'acuto infatti no perché ha acuto ma il nomen omen ovvero voleva dire in italiano anche che era un intelligente aveva acume perciò giovanni acuto quando si rese conto i suoi informatori gli dissero che il campo dei fiorentini era difeso in maniera abbastanza debole e che un sacco di soldati erano a fare il bagno non sappiamo se fu riferito anche che galeotto malatesta aveva la febbre malarica ma insomma giovanni acuto sapeva che quello era il momento bisognava attaccare adesso è certo normale normale no ve lo sareste immaginati anche voi dunque giovanni acuto decide di muoversi con il suo esercito con i suoi mille inglesi come ci dicono mille inglesi soldati che sapevano far la guerra più i pisani anche loro come firenze tirati a sorte presi per la chiamata per la ricolta per la raccolta dell'esercito no che erano in realtà cittadini fra di loro vi erano cavalieri mercanti che avevano acquistato un cavallo che si erano addestrati alla guerra e che cercavano un titolo nobiliare insomma tutte quelle faccende che magari spiego meglio nel video lo trovate il cavaliere il cavaliere errante lo trovate qui nel canale quindi i pisani si muovono guidati da giovanni acuto fieri di essere a disposizione di un comandante che ne sa ne sa anche più di galeotto malatesta probabilmente e infatti giovanni acuto pensa una tattica che voi non vi aspettereste mai perché io vi immagino che state guardando il video e direte bene adesso giovanni acuto attacca il campo perché sono tutti a bagno e è festa finita no giovanni acuto non attacca in massa il campo perché lui pensa prima di sferrare piccoli attacchi piccole scaramucce e poi ritirarsi subito e ne fa in totale tre giovanni acuto proprio dice ai suoi uomini adesso andate laggiù un manipolo piccolino fatevi vedere apposta tirate qualche freccia fate qualcosa andate lì alle barricate menate qualcuno magari non ne ammazzate neanche uno ma ritiratevi subito questa era la tattica di giovanni acuto fatelo per tre volte e voi direte ma allora è scemo perché così il campo fiorentino appena vede gli inglesi si si arma si prepara alla guerra no e allora ha rovinato tutto giovanni acuto aspetta aspettate perché perché effettivamente giovanni acuto porta avanti questi tre attacchi uno dopo l'altro e già dal primo è vero il campo fiorentino si riarma perché arrivano gli inglesi si vedono coloro che si trovano a guardia della strada principale lanciano l'allarme e la campana il campanaro che anche lui ha soldato che deve dare l'allarme per tutto il campo perché è un campo di 15 mila uomini e più perché ci sono anche tutti tutto quel che c'è intorno i panettieri le prostitute eccetera comincia a suonare l'allarme la campana quindi sì per il campo serpeggia la voce ora si va in guerra ci siamo molti escono dal fiume si preparano velocemente anche no si tirano le braghe si si allacciano la corazza la maglia di ferro indossano però appena molti si sono preparati alcuni neanche hanno fatto sono riusciti a prepararsi del tutto inglesi vanno via e qui la tattica del dell'acuto della vecchia volpe no perciò i fiorentini rimangono così ma come sono andati via perché ah vabbè allora stiamo un po aspettiamo a vedere no e non arrivano allora alcuni tornano a fare il bagno no altri magari restano in armatura e aspettano però dopo un po di stare alle barricate è inutile no quindi tornano indietro a quel punto arriva il secondo attacco della vecchia volpe attacco per modo di dire perché gli inglesi si fanno vedere suona la campana il campanaro dei fiorentini all'arma tutti allarme stanno arrivando ora si fa la guerra e di nuovo inglesi arrivano si fanno vedere scappano i fiorentini si ritrovano di nuovo che si è creato allarme appunto per tutto il campo ma la guerra non c'è di nuovo e siamo stati chiamati inutilmente serpeggia il caos no è questo che sta facendo acuto sta seminando caos è un po la favola di al lupo al lupo no di al lupo al lupo sto scherzando non è il lupo al lupo al lupo sto scherzando quando arriva veramente il lupo però nessuno ci crede infatti è proprio quello che accade il terzo attacco di nuovo gli inglesi raggiungono il campo e poi si ritirano alla fine gale otto ma la testa in persona che era vecchio e malato al sentire per la terza volta la campana e poi in realtà è un falso allarme va dal campanaro gli dice stacca subito quella campana se suoni di nuovo ti sbatto in prigione quindi il campanaro da quel momento toglie la campana e la campana non suonerà più i fiorentini tornano a fare il bagno gli aretini si rilassano gli inglesi tedeschi perché dalla parte fiorentina c'erano anche gli inglesi erano anche dalla parte dei fiorentini è un po di inglesi insomma tutti quanti è ormai il gioco dell'acuto è fatto il quarto attacco è quello vero giovanni acuto ha disposto tutto il suo esercito in massa davanti ha messo i suoi inglesi i suoi mille inglesi temprati da mille battaglie per sfondare proprio perché adesso sa che è il momento di attaccare forte e marcia come marcia aspetta che il sole gli vada alle spalle per fedire per trafiggere i negli occhi i fiorentini che sono accampati storditi e confusi e non hanno non credono neanche più agli allarmi che vengono lanciati nel campo e fa smontare anche i suoi cavalieri gli inglesi no perché gli inglesi molti erano a cavallo li fa smontare fa tenere i cavalli lontano e fa avanzare tutti a piedi perché gli avevano detto che il campo era molto polveroso e magari raggiungendo in massa tutti quanti a cavallo l'accampamento dei fiorentini i fiorentini avrebbero potuto vedere la colonna di fumo di polvere il polverone sollevato e allora forse quello li avrebbe allarmati di più ecco li fa scendere tutti da cavallo li fa camminare a piedi quindi la polvere rimaneva un po più bassa tutto questo per arrivare in massa il più possibile in quel quarto attacco a cui nessuno credette perché effettivamente giovanni acuto raggiunse le barricate con i suoi inglesi con i pisani al seguito tutti quanti tutti raggiunsero finalmente l'accampamento dei fiorentini e davanti a difendere l'accampamento vi erano quelli le poche guardie messe lì da manno donati ovvero quel pugno di balestri genovesi vi erano quel pugno di fiorentini che erano rimasti lì che ci credevano ancora quel pugno di aretini e tutti gli altri non c'erano ma non solo quando finalmente l'esercito pisano si fece vedere e i difensori cominciarono a gridare nessuno gli dette retta e nessuna campana suonò risuonò nel campo perché vi ho spiegato all'inizio un campo di 15.000 uomini è voglia gridare no dall'altra parte non ti sentono prima che arrivi la notizia ci vuole del tempo quindi la battaglia cominciò tra i pochissimi difensori e la gran massa di esercito dei pisani giovanni acuto se ne stava un po dietro perché cercava di gestire strategicamente la situazione cosa che fino a quel momento gli stava andando alla grande però non aveva fatto i conti con un aspetto che è quello che ci segnala il cronista forse un po di parte perché il cronista è fiorentino ovvero del coraggio dei suoi connazionali dei suoi compagni fiorentini perché costoro nonostante fossero pochi alle barricate nonostante nessuno dietro gli dava retta gli credeva più si misero a combattere a difendere non scapparono dinanzi a una moltitudine di nemici rimasero lì al loro posto alle barricate e resistettero loro i balestrieri genovesi anche si misero lì a combattere senza ritirarsi dinanzi a una disfatta molto probabile e questa inaspettata difesa tenne in scacco l'intero esercito dei pisani degli inglesi che forse giocavano proprio la carta della sorpresa questa volta vera ma non funzionò perché quei difensori tennero la posizione e col tempo con i minuti che passavano col clangore delle armi e con le grida i messaggeri che cominciavano a essere spediti no vai 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 a dirlo ci stanno attaccando veramente dopo un po' la notizia arrivò in tutto il campo è piano piano è sempre perché non c'era più la campana il primo ad accorrere però era colui che aveva permesso questa difesa no colui che aveva rinforzato le difese ma hanno donati lui ci credette quindi raccolse i suoi cavalieri lui a cavallo con i feditori di firenze e uscì da un'altra parte della barricata per colpire sul fianco l'esercito ammassato degli inglesi dei pisani che cercava di sfondare duramente contro le barricate perché sostanzialmente e questo potete anche figurarvelo se ci sono tutti i difensori che stanno reggendo a una barricata e cercano di non far passare quindi c'è un po di ammassamento c'è un affollamento è un cavaliere con il suo contingente di cavalieri che può fare niente il giro ecco cosa può fare fa il giro largo esce da un punto che non è attaccato dal nemico per colpire il nemico sul fianco questo è molto è un'azione molto coraggiosa perché comunque il contingente di cavalieri di manodonati era decisamente più piccolo rispetto alla gran massa dell'esercito che stava ammassato lì sulle barriere cercava di sfondare però anche questo si dimostrò letale per i pisani perché nessuno se l'aspettava che dopo tutto quello che avevano organizzato dopo tutti tutta la situazione a loro favore un cavaliere con tutti i suoi cavalieri sotto il suo standard con i feditori sarebbe uscito per colpirli sul fianco non se l'aspettavano ed ebbe successo e contribuì a tenere ancor più fermo l'esercito dei pisani che comunque era numeroso no e prima o poi avrebbe sfondato però si bloccava non riusciva a passare queste barriere finché tutto il resto del campo fiorentino che ormai a bagno nell'arno non c'era già più nessuno gale ottoma la testa si rese conto uscito dalla tenda malato vecchio che effettivamente l'attacco stava avvenendo per davvero e tutti quanti andarono ad attaccare l'esercito dei pisani la l'azione decisiva fu quando il grosso delle truppe dopo che i difensori avevano retto così tanto avevano anche affaticato l'esercito che stava lì che spingeva che non riusciva a passare gale ottoma la testa decide di aprire le barricate e di far uscire in massa i soldati che fondamentalmente erano freschi perché i suoi che erano rimasti nel campo a bagno a sguazzare eccetera beh fino a quel momento erano freschi tutti quei minuti passati a combattere avevano sfiancato i pisani avevano sfiancato gli inglesi e quando escono dal davanti dal fronte proprio i soldati fiorentini gli aretini a cavallo e diretti contro il nemico in faccia proprio a quel punto dalle retrovie giovanni acuto vede che la situazione è persa lui decide che non c'è più niente da fare ci ha provato e visto che adesso sono usciti in massa i fiorentini e non hanno arretrato nemmeno di un passo non solo adesso stanno attaccando loro niente giovanni acuto decide di ritirarsi lui comanda la ritirata lui e i suoi inglesi si ritirano perché probabilmente c'è una comunicazione molto più efficace fra lui e il suo zoccolo duro di soldati sua e la sua compagnia di mercenari mentre i pisani si attardano un po probabilmente appunto per motivi di comunicazione quindi giovanni acuto e gli inglesi vanno via brexit brexit medievale e brindo alla brexit perché ho bisogno di un po d'acqua mentre i pisani si attardano restano un po lì e questo sarà loro fatale perché saranno proprio loro a morire contro l'avanzata del nemico dei fiorentini che hanno vinto ed è questo questo è un aspetto della guerra non solo medievale dalla guerra antica fino alla guerra moderna quando il fattore decisivo che decide proprio il numero di morti di prigionieri i saccheggi il bottino che si può conquistare in battaglia tutto questo lo si decide al momento della ritirata della rotta quando una delle parti decide di andar via che ormai la cosa è persa è in quel momento che i vittoriosi se spingono se decidono di andare oltre è in quel momento che possono fare una strage una strage veramente di possono fare vittime possono fare bottino perché le guerre finché le due masse i due eserciti questo per quanto riguarda il medioevo finché si trovano lì uno davanti all'altro non ci sono tante vittime in percentuale rispetto invece a quando una delle due parti scappa l'altra la insegue e lì sì che vengono fuori morti e infatti il cronista giovanni villani ci racconta che per i giorni a venire in questo grande inseguimento dell'esercito fiorentino guidato da galeotto malatesta quando questo esercito inseguì i pisani fino quasi a pisa nei giorni a venire si trovarono cadaveri ovunque nel contado nelle campagne nell'arno perché magari qualcuno cercava di scappare ferito e finisce annegato nel fiume e questi cadaveri che arrivarono fino al mare per giorni vennero trovati i cadaveri negli orti nei vitigni nelle colline dappertutto perché la battaglia a questo punto si sparge il nemico scappa cerca di scappare ovunque e gli inseguitori li inseguono ovunque per far bottino per far prigionieri perché sappiamo appunto che se fai prigioniero un cavaliere pisano un bel mercante figlio di mercanti importanti che hanno le loro navi che le mandano fino in terra santa oppure fino nel mar nero addirittura per riportare l'ambra per riportare le spezie eccetera eccetera ecco il padre di questo cavaliere sgancerà una cifra enorme allora tu diventerai ricco perciò sei spinto a voler prendere prigionieri a rincorrere fino anche in cima alla collina se necessario e oltre fino alle mura di pisa se necessario fu a quel punto che qualcuno disse che forse a quel punto galeo tomo la testa avrebbe potuto prendere la città di pisa perché la vittoria era schiacciante però ecco in questo momento quando anche ne parla perfino il clauswitz nel della guerra un generale prussiano siamo ovviamente avanti nella storia però sempre riguardo i fattori decisivi delle battaglie della guerra si decide tutto durante la fase di inseguimento anche per quanto riguarda le conquiste territoriali perché quando un esercito è in rotta bisogna stare attenti questo vale anche nelle guerre napoleoniche che fare inseguire fino in fondo cercare di prendere il tutto per tutto oppure questo essere avidi troppo avidi ci si può potrebbe ritorcersi contro visto che magari il nemico riesce a raccogliere delle alleati riesce a riorganizzarsi e tu che è inseguito fino a quel momento sei incolto allo sprovvista e subisci una batosta una sconfitta ancor peggiore quindi che fare no due scelte mi fermo qui assicuro la vincita un po' come nei quiz a premi che faccio tengo quel poco che ho quel poco tengo la ricompensa che ho guadagnato fino adesso mi fermo oppure rischio tutto vado avanti per ottenere grandiose ricompense e però rischiare di perdere tutto anche quello che ho guadagnato prima galeotto malatesta che avrebbe potuto spingersi fino a pisa decide di fermarsi infatti perché la storia è andata così firenze non ha conquistato pisa nel senso proprio lato del termine no non ci ha messo la bandirina quindi si ferma dice suonate la ricolta la raccolta prendete tutti si torna indietro abbiamo vinto torniamo da vincitori non voglio sapere cosa potrebbe organizzare giovanni acuto che effettivamente qualcosa forse aveva in mente no perché si è ritirato senza avere grosse perdite lui stesso al contrario dei pisani e ci racconta nella cronaca che oltre ai cadaveri che si trovarono per giorni a spasso nelle campagne beh molti feriti colpiti dai verrettoni dai bolsoni lanciati dai balestrei di genovesi temutissimi quando raggiunsero la città di pisa colpiti col trafitti no da queste frecce dai dardi nelle gambe nelle braccia nelle costole riuscirono a raggiungere la città e ne morì in gran numero perché queste ferite di queste di questi dardi provocò loro la morte in seguito per setticemia o o qualsiasi altra cosa galleotto ma la testa tornò a firenze da vincitore quindi la battaglia di cascina del 1364 che io ho preso come modello per come racconto di una battaglia italiana e come vedete di aneddoti all'interno di una sola battaglia di questa ce ne sono bellissimi no immaginate quante altre battaglie posso raccontarvi perciò iscrivetevi al canale innanzitutto così vi rimanete sintonizzati con me e poi non vi perdete l'uscita del mio prossimo romanzo la stirpe delle ossa che uscirà fra poco credo fine maggio prima di giugno devo ancora sapere la data io ho dato il manoscritto per la preparazione del file di stampa quindi ci siamo e lì nel romanzo io parlo di queste cose ma ancora meglio perché le metto sotto l'ottica narrativa quindi è una storia con dei personaggi a cui ci si affeziona qui per quanto sia bella questa storia già di per sé perché sembra una storia da vedere al cinema non ci sono dei personaggi a cui ci si sta affezionando che alcune delle loro storie nel loro piccolo no immaginate una cosa del genere con un personaggio con un protagonista sarebbe qualcosa di incredibilmente bello perciò ripeto non c'è bisogno di andare in scandinavia a pescare dei vichinghi le storie ne abbiamo noi tante sono bellissime vi racconto sull'ultima cosa galotto malatesta torna a firenze da vincitore però vi ricordate la promessa iniziale fatta ai mercenari no doppio soldo e mese completo a quel punto dopo questa gran vittoria tutti i mercenari cominciarono a chiederlo a gran voce e il capitano di guerra si trovò costretto ad assecondarli e non mi ricordo quant'è la cifra che dovettero pagare che dovette pagare firenze per liberarsi di questi mercenari che ci fu una vera e propria rivolta e galotto malatesta fu costretto a scappare la cifra comunque ecco ve la dico è di 170 mila fiorini non so nemmeno quanti a parte che non si può fare il corrispettivo in euro perché il tenore di vita e i valori delle merci erano diverse da oggi le uova costavano diversamente da oggi quindi non è inutile dire quanti euro sono però insomma è una cifra astronomica per pagare questi mercenari e toglierseli anche di torno altrimenti avrebbero potuto chiedere molto di più perché in questi casi è pericoloso da gestire l'euforia di uomini d'arme quindi vi ringrazio per essere stati con me fino a questo momento spero che la storia vi sia piaciuta tanto ci vediamo al prossimo video ciao